Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Laura Moro, danzatrice, coreografa, cofondatrice dell'associazione Arte Migra Satellite di Castelfranco Veneto, provincia di Treviso e partirei proprio dall'ubicazione per spiegarci cosa sta succedendo a Castelfranco Veneto dal punto di vista artistico e vivace. Allora diciamo che Arte Migra sede a Zephyro che è un esperimento che ormai vive da tre anni, un esperimento che ha voluto prendere in mano un'industria, un'ex industria tessile, quindi un capannone, e trasformarlo, renderlo la casa di dieci unità, dieci elementi, dieci invenzioni. Quindi è la casa di architetti, di un fab lab, di un laboratorio di ceramica, grafico, di un'associazione che si occupa di biodanza, di Arte Migra Satellite, e accoglie il nostro nuovo e rinnovato Teatro Studio, che è uno spazio molto semplice, di 150 metri quadri, che lentamente stiamo trasformando in un teatro off. Zephyro è uno spazio molto aperto alla città, contiene anche un'associazione di cittadini che si chiama Zephyro Tutti, che possono proporre le loro iniziative, quindi accogliamo mostre, conferenze, corsi, ed è però il luogo di produzione artistica di Arte Migra, la casa dove creiamo i nostri spettacoli, creiamo rassegne e inventiamo dei modi il più vicino possibile alle persone di vivere la danza, di riscoprirla come qualcosa che può essere molto immediata, molto fruibile, senza compromessi naturalmente, continuando a mantenere forte il desiderio che sia arte ed espressione, ma con un'impronta di inclusività. Cosa vuol dire stiamo creando un teatro off? Vuol dire che non siamo nel bello, non siamo tra le mura amene della bella città, della vecchia città, siamo nella zona industriale, di fronte... Off è proprio dal punto di vista logistico? Off, fuori. Ah, non è una scelta culturale, produttiva? C'era l'underground, l'off, la scena indie adesso? È una scelta così radicata che non serve nemmeno accorgersene. Noi nasciamo, gioco forza, la danza è stata per molto tempo la cenerentola delle arti come underground. È sempre una scelta molto forte fare della danza, della musica il proprio lavoro. E quindi siamo off gioco forza, ma siamo molto aperti. Ma a proposito di scelte tra virgolette estreme, già il vostro nome, devo dire, non è proprio facile. Sì. Arte Migra Satellite, significa? Allora, Arte Migra viene da migrazione di tema. Sperimentiamo molto, lavoriamo molto con l'improvvisazione e direi più la composizione estemporanea, cioè l'arte dell'essere presenti nella propria scelta artistica e creativa nel qui e ora e regalarla al pubblico. Quindi lasciare una finestra aperta sui nostri processi creativi, mettendosi anche a rischio. All'inizio di Arte Migra, nel 2009, stavamo facendo un esperimento per noi molto importante e significativo che ha visitato vari luoghi del Veneto, vari luoghi anche dell'abbandono, ex discoteche, fabbriche, fabbriche anche ancora attive con i lavoratori e gli operai dentro, dove abbiamo creato delle performance, degli eventi che si componevano di due siti in collegamento streaming con varie città europee, soprattutto Amsterdam, dove c'è una scena della creazione della danza e musica indipendente molto forte. Cosa avveniva? Avveniva che questi due momenti erano in collegamento, due pubblici diversi avevano la possibilità di essere idealmente uniti attraverso il web, una cosa molto normale adesso, forse un po' più nuova nel 2009. Quello che presentavamo in scena era il nostro ensemble, che si chiama Temigra, ed è un insieme di danzatori e musicisti diretti da un prompter, da un conduttore esterno, che attraverso un sistema di carte e simboli trasforma il contenuto del singolo in contenuto di gruppo, crea una memoria, crea dei ritornelli, quindi fa composizione attraverso la musica e la danza dal vivo. La migrazione di tema, il nome di Artemigra viene da lì, è proprio questo. Come l'idea di un singolo, lo sviluppo tematico di una persona, possa contaminarsi dell'apporto degli altri e diventare coro, coralità. Satellite perché? Perché ci piace pensare di non essere soli in Touch, che è la nostra rassegna adesso attiva, lo dimostra. Ci sono tante realtà in Veneto, nel territorio, fuori territorio, in Italia, comunque molto, molto interessanti per quanto riguarda la produzione artistica, del teatro e della danza. E c'è un tentativo all'interno di questa rassegna, anche da parte di Artemigra, di fare rete con queste realtà, di contaminarsi, di stimolarsi a vicenda e di sostenersi anche. Ecco, in Touch è una rassegna di arti performative, tutte attorno alla danza? Intorno al corpo, direi. Intorno alla danza perché corpo vivo, corpo in movimento. Perché la parola danza è parte della nostra mission e deve risuonare per noi dentro alle cose che facciamo. Quindi sì, ci sono tanti esperimenti ai margini. Quello che accade adesso nella creazione, nell'ambito della danza e del teatro, c'è una grande spinta nell'invenzione dei linguaggi, c'è una grande libertà e quindi anche una mescolanza e quindi anche un'ibridazione, l'impossibilità di connotare, di dividere in categorie. Ecco, mi scusi la domanda impertinente, ma ciò che è bello per voi è bello anche per chi guarda? Perché, devo dire, la scena innovativa talvolta, insomma, devo dire, non è facile, ecco. Certo, appunto. L'idea di Artemicra è proprio di essere inclusivi, di non fare compromessi però e di cercare di portare attraverso delle altre strategie, quella del coinvolgimento del pubblico, dei dialoghi che sono parte di In Touch, dei workshop che sono dati dagli artisti, condotti dagli artisti, ma devono essere per scelta aperti a tutti. Quindi un coreografo che dia un workshop durante In Touch dovrà accettare la sfida di poter includere tutti, anche i non danzatori. Torniamo a che cos'è il bello. Il bello è una cosa molto soggettiva, ma il senso del bello, il desiderio del bello è una cosa molto inclusiva. La bellezza è un esercizio, cogliere la bellezza è un grande esercizio, è un esercizio di presenza e di attenzione. Un gesto virtuoso può essere bello di un grande danzatore, un gesto di un anziano, magari con dei limiti, che però porti consapevolezza in quel gesto e per cui debba mettere tutto se stesso nel percorso di una mano verso l'esterno, regala attraverso la sua presenza in qualcosa di molto semplice una grande bellezza. E quindi la domanda è, è soggettivo oppure no? È una bellezza alla quale forse non siamo però sufficientemente educati, nel senso che il grande ballerino danzatore, lo apprezziamo tutti, il sottoscritto che si muove, è una cosa un po' diversa dal bello. Magari io ci posso mettere anche tutto l'impegno del mondo, come lei dice, il gesto. Quando la consapevolezza è presente e quando le scelte sono intenzionali, quindi dove c'è una firma coreografica, una scelta, una ricerca di quella bellezza, tutti i corpi sono in grado di creare arte. Guarda voi avete anche una bella esperienza perché operate come associazione, come gruppo di danzatori all'interno delle case di riposo. Sì, è nato a cavallo tra il 2009 e il 2010 come progetto, uno dei progetti portanti di Artemigra è Atletica del Segno. Atletica del Segno nasce in seguito ad una commissione del comune di Castelfranco Veneto per la mostra per il cinquecentenario dalla morte di Giorgione, il pittore di casa. Una commissione alla sottoscritta di realizzare tre spettacoli dedicati, ispirati a tre dipinti. Uno di questi, La Vecchia, che è stata recentemente restaurata, che è questa donna con un gesto, con la mano davanti, la bocca semi aperta, come a voler dire qualcosa ma interrotta. Stavo lavorando con una danzatrice professionista molto brava, molto giovane e sentivo che stavo menando il camperlaia. Quindi ho deciso di far visita alla casa di riposo di Castelfranco e lì ho incontrato la responsabile dell'animazione, una persona molto molto aperta, Susi Di Segna, con la quale abbiamo instaurato un laboratorio, un laboratorio di danza per persone dagli 80 in su, dedicato alle donne come primo esperimento e abbiamo portato in scena loro con una gestualità molto semplice legata al quotidiano e legata ad un minimalismo musicale, quindi alla ripetizione di gesti che sovrapposti creavano proprio una partitura in dialogo. Questo esperimento è piaciuto, abbiamo partecipato a varie rassegne con lo spettacolo, ne sono nati altri e il laboratorio è diventato una pratica stabile presso il Centro Anziani per otto anni. Chapeau! È diventato il Centro Anziani stesso, prima di Zefiro, la nostra sede, per cui facevamo le prove in questa grande sala con le vetrate ed è nato un dialogo, un dialogo vero. Da qui è partito proprio sviluppare una nostra competenza in questo senso, per cui abbiamo attuato questi progetti in Trentino, li stiamo portando avanti in altre regioni d'Italia e abbiamo creato davvero una piccola comunità danzante intorno al progetto. Grazie. Grazie a lei. Grazie a Laura Moro, danzatrice e cofondatrice di Artemigra Satellite. Credo che abbiamo fatto il nostro dovere dicendo puntiamo l'attenzione, apriamo un fascio di luce su Castelfranco perché stanno succedendo delle cose belle. Grazie mille. Grazie a Castelfranco, provincia di Treviso, naturalmente. Alla prossima. Grazie a tutti.